Bonus ombrelloni per i bebè che nascono nel Veneto orientale, come sta andando l'iniziativa? Ma è un'iniziativa che è partita proprio quest'anno, quindi chiaramente non ho ancora un report. È un'iniziativa, io credo, bella, simpatica, insomma. Ma è un'iniziativa che l'USL Veneto orientale, quindi che è l'USL della nostra costa, ha voluto mettere in atto non solo per evidenziare due punti di eccellenza, i due reparti, appunto, i due punti di nascita di Porto Guerrero di San Donà, ma in questo modo io credo anche cercare di coinvolgere a tutto tondo il territorio, quindi le strutture territoriali, in questo caso gli operatori della costa. Però spiegando anche, e quindi dando le corrette informazioni, dell'importanza appunto del mare, del sole, la corretta esposizione, quindi anche sani stili di vita per il neonato e per la famiglia.